a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale oggi continuiamo a giocare a te caldisto proprio con il vendiamo da dove ci siamo lasciati allora ragazzi dobbiamo fare veramente silenzio qua praticamente dobbiamo muoversi in modo silenzioso iniettore mi serve come il pane iniettore vediamo un po ok mettiamoci un po di energia bene ok poi andiamo di qua oddio dobbiamo fare molto silenzio molto silenzio ragazzi ma io se tipo li prendo le spalle no eh infatti poi voglio prendere mi voglio prendere alle spalle si può stare ok 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 1 2 2 molto bene allora di qua che è insalvata la partita ok oh merda il testa di cazzo si è voluto dai non non no vado no 2 in 1 vado arriva 2 vado vado 4 un'appertata tanto è un'oma o un'oma ragazzi sta tutto un'oma o un'oma c'è qualcosa c'è una scala è un'oma di aumentare un po' oh madonna che cazzo è sta cosa ma dai cazzo allora va bene va bene un attimo ragazzi che mi devo un po' oddio va bene va bene va bene ma vediamo se c'è qualcosa da prendere io non mi voglio parlare un po' schermato 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 eeeh il problema è questo adesso va bene va bene va bene va bene va bene oh madonna che è questo detto di cazzo No, 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 no E' morto, là? E' ancora vivo E' segnata Vieni, torni da Madonna, santa Ah, già, miseria Allora Posso vendere questo Posso vendere questo E posso vendere questo Molto bene Allora Che pistola è questa? Pistola tattica Appare le operazioni special Sì, sì Sì Io non metterei più Stampe E' ancora più Qua cosa è già Non è anche Perché Ma cosa lì Capienza Danno Attivazione Assemblato Stato Sgomberare L'area Di Assemblato Poi 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 Anche A 600 Iniettare Fai Un'indicazione potente Integno E' buco Dio Quasi Tutte le fatite Dopo Non è Un'indicazione potente Un'indicazione potente Scoppa Sì Tipo Prendo questo Ispezionare la stampanza Prima del Non è Eseranto Una pistola Controllo Qualitativo Ok Non ci Trovo Ragazzi Intanto Adesso Trovo Prendo Tutto La moda Poi Mettere L'uso Non Autorizzato Sarà Segnalato Sulla Vostra Schella Personale Controllo Non è ma qua mi sto introfonando, non so neanche io dove ragazzi però vediamo se è intorno a morire non è di buon aspiccio si salta la partita, si salta qui non c'è niente qua no ma porca eeeh lo sapevo no 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 a 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 vabbè devo fare una cosa tecnico-tattica ragazzi in questi casi ragazzi è meglio scappare immagina non mi febola eeeh vabbè vabbè oh mamma da dietro non ce l'ho va dietro va dietro mi sta seguendo ah che cazzo dai dai mi stanno seguendo vai che pezzo di merda no è un po' sicuro ragazzi dai mi sono bloccato no 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 porco due sei salvato la partita con tutti i mostri come cazzo ne va ma porca puttana ma porca ma scherziamo oh dio no 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 Come on! Come on, chi continental, come on, amina, 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 amina. che non è un'altra cosa? non è un'altra cosa? non è un'altra cosa? Sì Sì Allora ragazzi Devo fare le forze furgicamente Allora 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 si sta salvando la continuazione e ce ne sono altri mannaggia è bella dai 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 parca miseria dove cazzo no 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 troppo 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 no 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 troppo è coglione il capetto di merda allora ragazzi ho cercato di praticamente speriamo che non è uscito l'altro vabbè va devo fare tutto in modo stealth poi si prende dopo eh devo fare tutto in modo stealth quindi è salvata quella è una pazzita oh merda ok questa è la leva madonna quanti ha il cuore ma io dico no la puttana della mannaggia un listo un altro sistemi operativi parametri normali allora vedi allora vediamo cosa posso migliorare io andrei su questo ragazzi si si andrei su una cosa più easy così almeno c'è più magia è il tuo di più vabbè ragazzi tra poco ci salutiamo oh madonna eh si che schifo parca miseria che schifo è il tuo di più spero funzioni ancora eh ti proviamo dove sta è il generatore va la cazzo oh eh è salvata la nuova partita è salvata la nuova partita altrimenti è bene ma si può vediamo andare di qua no 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 aspettate 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 calma San Josep ho trovato il generatore no? quindi in qua no no di qua sono venuto devo andare di qua devo andare di qua no no ok in qua ragazzi mi è fatto di qua andare quindi eh di questa la direzione e si oh devo saltare e si bella doma doma no ti mostri uuuh non ma puttani doma eh c'è vabbè non 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 mi ero un po' perso vabbè ragazzi tra pochissimo non appena attiviamo il generatore ci ce la vediamo qua ragazzi sento rumori strani sento che schifo queste cose addio quanti cazzo ma donna vabbè però sto notando che non sto ricevendo un feedback positivo per questo gioco guardate la pazienza non 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 Sì per forza sembra come un tipo sto generatore di merda vabbè ragazzi tra poco ci salviamo anche ce l'ho fatta bloccato bloccato eh sì devo sbloccare questi interruttori sembrano connessi al generatore effettuare la selezione richiesta non valida prima controllo qualitativo ok innanzitutto prima teniamo l'ultima allora ragazzi io direi che con questo video ci possiamo trovare qui spero che il video vi sia piaciuto ragazzi come sempre vi chiedo se volete vi iscrivetevi e lasciate un bel like un saluto a tutti da Astrapiche ciao ragazzi nei prossimi video ciao ciao